Gulcemal Sain, Muratunan Gulcemal. Il suo nome significa faccia di rosa, ma nessuno ha accarezzato il viso roseo di Gulcemal, né lei ha sorriso in questa vita. Non sapeva cosa fosse l'affetto materno. Non ha mai saputo cosa significhi essere un bambino. Ora si parla di lui come di un uomo crudele e orribile. Gulcemal non ha dimenticato il dolore che ha sofferto nella sua infanzia e il corpo di suo padre che giaceva a terra. È in debito con questa vita e con sua madre. Non si raffredderà finché non avrà la sua rivincita. Ma d'altra parte, è un padre per gli oppressi e ancora più crudele per gli oppressori. Gulcemal aveva un cuore grande. Aveva il mondo nel cuore, ma non riusciva a trovare un posto dove rifugiarsi nel mondo. Muratunan è nato il 23 aprile 1981 a Kayseri. Muratunan, che ha trascorso la sua infanzia a Kayseri ed è originario di Kayseri, è arrivato a Istanbul dopo gli anni della scuola secondaria. Durante gli anni del liceo, ha giocato a basket a livello professionale nel Fenerbahce Sports Club. Dopo essersi laureato all'Università di Marmara, Dipartimento di Economia Aziendale, Unalm ha seguito un corso di recitazione presso l'Academy Istanbul. Parallelamente a questo processo di formazione, ha recitato Inayat Balar, Limited Love, Kursun Yaras, Uchi Kadin e Deli Duran, Senne Dilersen. Si è fatta conoscere nel film Gunesi Gordum diretto da Masum K.R.M.Z. e ha recitato anche nel film Best Minare in New York, dello stesso regista. Ha interpretato il ruolo principale nella serie Yer Go Kask.